Musica 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 Hola benvenuto a una puntata di giochini maturi Si il caldo mi da totalmente alla testa Sono più anti regular del solito E' mai possibile una roba del genere E effettivamente si perchè oggi voglio andare a creare un flauto E non sto parlando di cose ambigose Voglio creare proprio un flauto Usando questo tubo Che è il tubo dei braccialetti Che mi ha regalato Mi sembra California Cree Probabile si Non riesco neanche ad aprirlo Il video è finito Spero vi sia piaciuto E' molto chiaro e come direbbe Dani circonciso Ok ora abbiamo The tubo A questo punto faremo un po' di buchi vari In questa zona qua Voi mi direte si ma l'ho fina ma divisi In quanto uno dall'altro La risposta è di che Cioè così prendete e bucate Non potete chiedere tutto a me Qui Primo buco Ok Primo buco Fatto Vedete? Poffi Secondo buco Io ho paura di piantarmelo In da mano Non lo sento No Secondo foro Uuuu Su migaso Dai ragazzi però non si può essere così ritardati Ok Poffi Poffi E Andre Murmuto col suo flauto Questo è un flauto E Ancora uno Ok A questo punto serve il buco Quello d'entrata Perché sennò dove soffiamo? Qua E quindi bucchiamo la plastica Il problema è che questa plastica mi sa che è dura E come facciamo? Aspettate che mi ingegno Vediamo se riesco a bucare No è troppo duro Aspetta ideona Risolto Lo facciamo a bagianina Ho utilizzato anche l'atto mi sembra giusto Chissà dove se l'hai messo Cri Scherzo No Perché non soffia? Non ha funzionato Cos'ho sbagliato A parte tutto Secondo me è il buco È il buco troppo grande Aspetta Allora no Non è venuto nel mento Lo sto sboccacicciando talmente tanto Perché non è venuto? Il flauto è un cilindro di plastica Con dei fori È un bucaciccio Perché non è venuto? Quale motivo non è venuto? Il mio flauto Forse perché è di cartone Tipo Guardate il mio flauto Canta anche Sentite come canta bene Albano Che belli che sono i miei esperimenti Ma quanto sono belli e utili Ma quanto sono belli e utili Scommetto che su Instagram Riescono a fare il flauto Usando la merendina Cioè fanno i buchi sulla merendina E suonano O solo su Instagram Perché nella realtitude Questo è il risultato E niente Un altro epic fail È servito Spero Mi sia servito tantissimo Ma che cazzo può servire Sto video? Bene Questo è tutto Scrivetemi qua sotto Nei commenti Come fare strumenti in casa Perché voglio provarci Datemi idee Questo tutto c'è da una fine Cosa?